Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole. Noi siamo andati in alcuni istituti della città per vedere come ci si sta preparando alle novità imposte dalle normative sull'emergenza da coronavirus. Poi però parleremo anche di consumi. Il Covid ha fatto calare i consumi degli italiani e dei ferraresi. Ci sentiremo a breve i numeri e c'è un dibattito che sta tenendo aperto il discorso sempre sui bambini in città. Parliamo di estate bambini perché è stata annullata l'edizione 2020. Ci sono stati degli strascichi polemici politici e quindi c'è un botta e risposta tra l'amministrazione e la minoranza in consiglio comunale. Poi è una stagione di lavori in corso in città. Il prossimo sarà su un lungo asse viario, quello di Porta Po. Vedremo poi la mappa dei lavori ma partiamo parlando come sempre dell'emergenza coronavirus, del bollettino, dei nuovi casi che ogni giorno quotidianamente diamo. Siamo in attesa a breve dei dati tra ieri e oggi ma vediamo quelli delle ultime ore perché sono 117 i nuovi casi in più di positività al Covid rispetto a domenica in Emilia-Romagna di questi. Circa la metà, 57 sono asintomatici e 20 sono i nuovi contagi collegati ai rientri dall'estero per i quali la regione ha previsto due tamponi durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da o paesi extra Schengen o da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni invece è di 18 persone e l'età media dei nuovi positivi di oggi è di 38 anni. Sui 57 nuovi e sintomatici 22 sono stati individuati attraverso gli screening e 28 grazie ad attività di tracciamento mentre due sono emersi da test pre-ricovero e di 5 ancora non si sa l'origine appunto del contagio. Ferrara invece rispetto a sempre a domenica presenta solo due nuovi casi e entrambi con sintomi che fanno così salire a 1224 il numero di positivi sul territorio da inizio epidemia. Questi ricordiamo sui numeri tra lunedì e domenica e stiamo attendendo a breve quelli tra oggi e ieri. La sanità emiliano-romagnola compie un nuovo passo in avanti per capire quali sono le cause della mortalità da coronavirus. Sentiamo allora di che si tratta di questa novità in questo servizio. Il sistema sanitario regionale non solo ha contribuito in maniera decisiva a gestire un'emergenza senza precedenti, ma allo stesso tempo ha gettato le basi per segnare un significativo passo in avanti nella lotta al virus che potrebbe portare a raddoppiare il tasso di sopravvivenza nei pazienti più gravi nell'attesa del vaccino. A dichiararlo sono il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini. In merito alla ricerca che vede il policlinico Sant'Orso la capofila è pubblicata sulla rivista scientifica Lancet che descrive il meccanismo responsabile della elevata mortalità in terapia intensiva dei pazienti con Covid-19. Secondo lo studio, grazie a due semplici esami, è possibile una diagnosi precoce che assieme al supporto del massimo delle cure possibili in terapia intensiva può portare a un calo della mortalità fino al 50%. Oltre al Sant'Orsola sono coinvolti anche il Policlinico di Modena e l'Università di Modena-Reggio Emilia. Un lavoro di squadra che rende orgogliosa la regione Emilia-Romagna da dove tuttavia ricordano di rispettare ancora le regole in quanto il virus non è ancora sconfitto. Apriamo una breve parentesi in tutti i servizi che abbiamo sull'emergenza coronavirus una parentesi per parlare di lavori in città perché partono domani dei cantieri importanti di asfaltatura di una delle strade più trafficate della città ovvero Corso Portapò e Corso Biagio Rossetti partiranno dall'incrocio con Via Riosto fino a Corso Ercole I destre e quindi cambierà quasi totalmente la viabilità in questa zona della città. Il Comune da domani consiglia di utilizzare percorsi alternativi per l'intera durata del cantiere ad esempio Viale Cavour per evitare così code e rallentamenti in questa zona di Ferrara. L'obiettivo del cantiere è ripavimentare tutto l'asse viario e il cantiere dovrebbe finire prima dell'inizio della scuola inizio delle lezioni previste il 14 settembre scuole di cui parleremo subito dopo il prossimo servizio del telegiornale perché come anticipato in apertura i consumi alimentari sono in calo a causa dell'emergenza sanitaria a sottolinearlo è col diretti. I consumi alimentari degli italiani fanno segnare un calo del 10% nel 2020 per effetto del crollo del canale della ristorazione che non viene compensato dal leggero aumento della spesa domestica e quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base di dati SMEA della quale si evidenzia un taglio complessivo della spesa a tavola di ben 24 miliardi per effetto dell'emergenza coronavirus. La spesa alimentare degli italiani, evidenzia Coldiretti è tornata indietro di 10 anni su valori del 2010 nonostante che in termini percentuali si sia verificato un aumento rispetto alle altre spese che hanno avuto un crollo maggiore. A pesare è stata la chiusura durante il lockdown della ristorazione per la quale rimane una situazione di sofferenza per le difficoltà economiche, lo smart working, la diffidenza dei consumatori e le difficoltà del turismo, soprattutto straniero, che rappresenta una fette importante della clientela secondo Confcommercio. Con la fine delle limitazioni agli spostamenti, l'effetto scorta legato ai timori ingiustificati sugli approvvigionamenti per la spesa domestica si è invece progressivamente affievolita per tornare su valori leggermente superiori alla media in una situazione in cui sono in calo tutti i settori del commercio al dettaglio. Una situazione che sta rivoluzionando anche gli equilibri all'interno delle filiere produttive che, sottolinea Coldiretti, pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Da quando è iniziata la pandemia in Italia, il 57% delle 730.000 aziende agricole nazionali ha registrato una diminuzione dell'attività, ma l'allarme globale provocato dal coronavirus, conclude Coldiretti, ha fatto emergere una maggiore consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo con la necessità di interventi di sostegno per difendere la sovranità alimentare e non dipendere dall'estero per l'approvvigionamento alimentare in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali. Capitolo scuola è l'argomento di questi giorni, sia a livello locale che nazionale, mancano poco meno di due settimane alla riapertura degli istituti agli studenti dopo mesi in cui appunto i giovani non vanno più a lezione se non a distanza, ma qual è la situazione negli istituti di Ferrara? Siamo andati a visitare il liceo a Riosto Ludovico a Riosto. Martedì 1 settembre, al liceo classico linguistico scientifico Ludovico a Riosto di Ferrara, il nuovo anno scolastico si aprirà con un collegio dei docenti, dove, dice la preside professoressa Isabella Fedozzi, concorderemo le azioni future, con l'obiettivo che ci ha guidato in questi mesi di creare le condizioni per lavorare in sicurezza. Domani partiamo con il collegio dei docenti. I temi che affronteremo saranno proprio quelli di coniugare la sicurezza con la ripresa della didattica. Noi esistiamo per l'insegnamento e apprendimento, non ce lo possiamo dimenticare. Anche in queste condizioni, pur con tutte le preoccupazioni di cui siamo oggettivamente gravati, i temi che affronteremo saranno proprio quelli della progettazione didattica da svolgere in sicurezza. 1.600 studenti in due sedi, un aumento nel prossimo anno di tre prime classi, 140 docenti, più il personale tecnico-amministrativo e collaboratori scolastici, figure chiave nella gestione della vita scolastica fuori dall'aula, quattro indirizzi, classico, linguistico, scientifico e di scienze applicate. È un unico obiettivo, creare le condizioni per avviare in sicurezza l'anno scolastico del dopo lockdown. È il tratto sintetico del liceo classico Ludovica Riosta di Ferrara, dove questa mattina siamo stati ricevuti dalla preste che ci ha raccontato il lavoro fatto in questi mesi di chiusura della scuola, dalla didattica digitale, agli esami di maturità, ai preparativi necessari per ripare la scuola in sicurezza. Intanto noi pensiamo ad una prima fase di didattica digitale integrata, quindi una prima fase che potrebbe essere di due settimane, non possiamo che auspicarlo, ma potrebbe anche essere prolungata, in cui a scuola verranno le classi ma dimezzate, quindi avremo metà studenti con il docente in presenza e metà classe che segue l'attività a distanza. Ovviamente la cosa verrà fatta a rotazione, in maniera tale che vengano conservati gli orari, il liceo riosto ha già l'orario definitivo e quindi l'offerta formativa, sia in termini di tempo delle lezioni, ovviamente che di contenuti. Sono tante le variabili da tenere sotto controllo, dice la preside, prima e soprattutto dopo l'inizio delle lezioni. La fase successiva, una volta che avremo sperimentato se i nostri protocolli, cioè l'uso in particolare degli spazi, il rispetto del distanziamento, dell'igienizzazione e tutto quello che ruota su questi temi, che una volta verificato che questi protocolli reggano, diciamo così, ai grandi numeri, allora potremo progressivamente passare ad incrementare la didattica in presenza e diminuire i momenti che però non potranno scomparire, questa è una consapevolezza direi diffusa, di didattica a distanza. Tanti quindi gli studenti e soprattutto tante le novità che riguarderanno appunto i ragazzi che si apprestano a tornare in classe, in primis il modo stesso di stare in aula. Vediamo. Le linee guida sono quelle di avere un metro di distanza tra un allievo e l'altro, due metri di distanza dall'insegnante, abbiamo fatto le tracciature a terra e sostanzialmente, per il discorso riguardante la sicurezza, abbiamo bisogno di uno spazio tra un banco e l'auto che va al minimo da 60-80 cm. Rispetto alle indicazioni ministeriali abbiamo fatto un sopraluogo in tutti gli ambiti della nostra scuola e abbiamo visto che con questa formula che ne avete filmato poco fa riusciamo a tenere tutti i ragazzi all'interno delle aule. Poi abbiamo altre tipologie, laddove i banchi non hanno la dimensione che abbiamo visto qui, non siamo in grado di ospitare un numero di ragazzi sufficiente per dare la continuità e la presenza a tutti quanti. Perciò la richiesta che abbiamo fatto al Ministero è quella di avere dei banchi dimensionalmente più piccoli e che possano ricreare una situazione opportuna per riuscire ad adempiere a quello che è la richiesta ministeriale. Siamo in attesa, il Ministero ha detto che entro, cioè vi ha dato garanzie che entro il 14 settembre sarebbero arrivati, ad oggi noi in questo momento non li abbiamo. però dico rincuora l'idea del fatto che noi inizialmente la nostra ipotesi è quella di entrare a metà e metà in questa situazione riusciamo a rientrare tranquillamente. Non riusciamo in questo momento a garantire l'accesso ai 25, 26, 27 previsti come richiede il Ministero. Inaccettabile parlare di caos nelle scuole a sostenerlo è la preside del Liceo Classico di Ferrara. Credo davvero di poter dire agli studenti, alle famiglie e alla città di Ferrara e oso dire a tutto il grande bacino di utenza su cui si appoggia il Liceo Ariosto che ha studenti che vengono dal Bolognese, dal Rodigino, eccetera, eccetera. La parola caos collegata all'istituzione scolastica, lo dico in generale e poi lo dico in particolare perché io parlo ovviamente per la realtà che conosco, è inaccettabile, è davvero inaccettabile. Come dicevo prima, come facevo cenno prima, non soltanto contiene una componente irrispettosa nei confronti di tutti coloro che stanno lavorando dentro la scuola ma davvero non coincide con ciò che è stata la vita ed è la vita delle istituzioni scolastiche di questi mesi. Un conto è la preoccupazione, un conto è un cambiamento che in certi momenti davvero abbiamo sentito che quasi ci stava travolgendo ma non ci ha mai travolto. un conto è parlare di disorganizzazione, di disordine. Il lavoro è stato intensissimo, le ore non si contano, le ferie sono un termine che se vogliamo, non so, possiamo sfogliarlo dentro il vocabolario, ecco, diciamo così, nel senso che ovviamente al di là del diritto fondamentale al periodo di ferie, abbiamo continuato ad essere in lavoro anche in ferie perché quando ti vengono delle idee per risolvere dei problemi la prima cosa che fai è condividerla con i tuoi collaboratori. Il lavoro di equip è stato fondamentale, l'idea dell'uomo solo al comando è proprio da rifiutarsi categoricamente, il dirigente scolastico ovviamente ha le sue responsabilità che non può demandare ad altri, ma il clima di collaborazione che io ho trovato, io sono appena arrivata al liceo Ariosto, sono arrivata nel 2019, anno direi fatidico per arrivare in una scuola nuova, ma è assoluto e non è, ripeto, piageria, è ciò che si respira ed è anche ciò che ci ha consentito, soltanto assieme si poteva fare, di superare le difficoltà e che ci potrà consentire di superare anche tutto quello che verrà, perché lo sapete molto bene, le incognite sono numerosissime, siamo in una fase dove ogni giorno è una sperimentazione. E parliamo ancora di bambini, in questo caso di estate bambini, perché l'evento del fine estate in centro città quest'anno non si farà per motivi precauzionali legati all'emergenza coronavirus, l'andamento allarmante relativo ai casi di contagio, l'abbassarsi dell'età dei contagiati e i protocolli sempre più stringenti hanno fatto propendere l'amministrazione comunale per una scelta di massima prudenza, spiega l'assessore comunale alla pubblica istruzione Dorota Kusiak. Non senza rammarico dice, visto il prorogarsi dell'emergenza e della ripresa dei contagi, dice Kusiak, abbiamo ritenuto fosse opportuna la sospensione dell'evento dedicato all'infanzia che in tempi normali avrebbe previsto ovviamente la partecipazione di tutta la cittadinanza in un momento che negli anni passati ha raggiunto le 8 mila presenze complessive il consorzio RES, ha commentato il responsabile dei servizi educativi della cooperativa sociale CIDAS, comprende la scelta basata sul principio di precauzione adottato dall'amministrazione che ha portato appunto quest'anno a rimandare al 2021 estate bambini. Ma su questa decisione l'opposizione in consiglio comunale maresca di gente a modo chiede chiarimenti. Non si terrà l'edizione 2020 di estate bambini ed è la notte bianca dei bambini. L'appuntamento di settembre dedicato ai più piccoli salta per il persistere di una condizione di relativa emergenza sanitaria. Una motivazione che tuttavia non convince l'opposizione che per voce del consigliere Dario Maresca pone alcune domande all'amministrazione comunale. Strano che questa condizione di relativa emergenza non abbia impedito lo svolgersi di concerti in piazza con migliaia di persone, sostiene il rappresentante della lista Gente a Modo, di iniziative altrettanto storiche come i Baskers, di serate di Miss Italia, di un'edizione addirittura ampliata di Mangiaf Expo e delle pure tradizionali occasioni ricreative delle contrade. Tutto con la sollecitazione del supporto dell'amministrazione e trovando dove necessarie modalità nuove compatibili con la situazione sanitaria. Invece, quando si è trattato di un'iniziativa riservata ai nostri concittadini più piccoli e alle loro famiglie, l'amministrazione ha preferito rinunciare. Maresca rincara, sostenendo che i bambini non sono nelle priorità di questa amministrazione. Basta ricordare che dopo un anno e tre mesi non è ancora stata convocata la consulta per la genitorialità o lo sconcertante annuncio delle esternalizzazioni di due scuole a pochi giorni dall'inizio delle attività, senza nessun coinvolgimento delle famiglie e nessun rispetto per i bambini coinvolti. Per concludere, il consigliere chiede quali siano le reali motivazioni per cui non si è svolte state bambini neanche in una forma ridotta o con ingressi contingentati, come tutte le altre iniziative di questa particolare estate e in che modo questa giunta d'ora in avanti abbia intenzione di dedicare maggiore attenzione alle famiglie e ai bambini che rappresentano il futuro della nostra comunità. Si è chiusa l'edizione limited del Ferrara Baskers Festival a suonare nell'ultimo giorno di concerti anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, come fece il primo cittadino estense, Gaetano Sateriale, nel 2007. Grazie. Grazie. Si è chiusa sulle note dell'Alan Fabri Folk Band formazione musicale del sindaco di Ferrara la 33esima edizione del Ferrara Baskers Festival domenica andata in scena in versione limited con spettacoli trasferiti dalle piazze ai palazzi storici e contingentamenti post-emergenza Covid. Il primo cittadino ha dedicato il concerto all'amico Andrea Samaritani, artista, fotografo e regista scomparso domenica in special modo con la cover di Andrea di Fabrizio De Andrè. Il primo bilancio dell'edizione 2020 ha quindi registrato numeri importanti nonostante le limitazioni dovute alle misure anti-Covid 60 eventi, 5 location, 5.000 persone e interesse anche dall'estero. ringrazio la nostra magnifica macchina organizzativa ha detto la presidente del Ferrara Baskers Festival Rebecca Bottoni abbiamo voluto regalare un po' di sollievo dopo un periodo buio il prossimo anno ci auguriamo un'edizione senza limiti ha detto la presidente mettendo a frutto le tante suggestioni imparate quest'anno. è stata un'edizione surreale così l'ha definita Stefano Bottoni che è lo storico fondatore del festival abbiamo riscritto l'approccio con i territori e gli spazi rivedendo le differenze tra contenitori e contenuti la chiusura e i limiti ha detto Bottoni hanno avuto l'effetto paradossale di liberare le energie la musica e l'arte sono state capaci anche di questo appuntamento quindi con il Ferrara Baskers Festival al prossimo anno. E con questo è tutto grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. Grazie a tutti.